Ciao e benvenuto in questo tutorial. Oggi ti farò vedere delle soluzioni gratuite a basso costo per quanto riguarda i sintetizzatori virtuali. Tutti i synth che ti suggerirò in questo video li troverai linkati in descrizione. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube se ancora non l'hai fatto ed attivare la campanellina per ricevere subito i prossimi tutorial. Il primo synth che ti suggerisco è gratuito e si chiama Vital. Lo puoi scaricare nel link che ti lascio in descrizione ed è un Wave Table Synth. Può essere considerato come la soluzione gratuita di Serum. Se non lo conosci Serum è un sintetizzatore utilizzato in ambito elettronico. Vital nello stesso modo propone dei suoni più acidi e sintetizzati che vanno bene sia per la musica dance ma anche per la musica trap. Ti faccio sentire come suona, per questo esempio ho utilizzato il preset analog pad e creato questa sequenza. Il secondo synth che voglio consigliarti si chiama Xpand ed è un sintetizzatore multitimbrico che può essere considerata la versione economica di Omnisphere. Al suo interno ci sono davvero numerosi preset da sintetizzatori più elettronici come soft lead arpeggiatori a suoni più acustici come mallets, chitarre, pianoforti di vario genere. In questo caso ho deciso di utilizzare un preset sotto la sezione chitarre che si chiama string più nylon. Nonostante sia un sintetizzatore dalle ridotte dimensioni che consuma poco sulla CPU e presenta dei suoni abbastanza realistici. Il terzo synth che ti consiglio si chiama Purity costa 49 dollari ed è particolarmente utile nel caso in cui vogliamo realizzare delle produzioni Afro Trap in ambito Hip Hop oppure West Coast e Vecchio Stile. All'interno c'è una vasta libreria di suoni e quelli che apprezzo particolarmente si trovano nella categoria Belle e Perks. Sentiamo la sequenza che ho creato. Purity sicuramente è un must have per i producer. Molti non sanno che l'azienda Native Instruments propone gratuitamente il Contact Free Player che è la versione ridotta del Contact completo. Contact è un campionatore che consente di utilizzare librerie di Native Instruments ma anche di terze parti. Nella versione Contact Player viene equipaggiato con una libreria di oltre 2000 suoni che pesano circa 6 GB. È davvero consigliato perché nella sezione Factory Selection ci sono innumerevoli suoni da suoni più vintage fino a sintetizzatori e a suoni più etnici come flauti, percussioni, ecc. In più digitando su Google Contact Free Library compaiono una vasta serie di librerie che possono essere scaricate gratuitamente ed utilizzate all'interno del player. Siamo giunti alla conclusione di questo video spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Se è così lascia un like e condividilo con i tuoi amici e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale YouTube di Produzione Hip Hop. Nella descrizione sotto questo video troverai tutti i link con i synth che ti ho consigliato fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Ciao!